Allora, buonasera e benvenuti alla terz'ultima conferenza di questo ciclo che è collegato alla mostra DNA. Allora, la conferenza di questa sera è dedicata ad una figura straordinaria che è quella di Nazareno Strampelli. Terrà questa relazione Roberto Lorenzetti. Roberto è il direttore dell'archivio di Stato di Rieti e io voglio, diciamo così, ho profitto di questa occasione per ringraziarlo pubblicamente perché lui è stato una delle persone che ha consentito alla mostra di prendere forma, cioè se c'è lo spazio dedicato a Nazareno Strampelli, se quello spazio è uno di quelli gettonati all'interno della mostra, gran parte o anzi possiamo dire quasi tutto il merito di quello spazio è di Roberto perché ci ha messo a disposizione la straordinaria documentazione che è conservata verso l'archivio di Stato di Rieti perché ci ha consentito di, diciamo così, in una situazione molto complicata, uso neofemismo di avere un contatto che poi è diventato qualcos'altro con il CREA che gestisce i materiali di Nazareno Strampelli. Quindi grazie Roberto per questo contributo fondamentale. io come al solito, come avrete capito, non mi dilungo oltre, la relazione appunto ricostruirà la figura di questo straordinario personaggio che io ho conosciuto grazie a questa mostra, questa è una delle, diciamo così, ho imparato perché ho un sacco di cose e quindi cosa vi dico. Buon ascolto e grazie. Grazie Fabrizio, troppo buono come sempre. Sì, Strampelli poi ha mosso tante cose, io sono tanti anni che me ne occupo, quasi 30 ormai e proprio quasi 30 anni fa, un po' meno, a dire il vero, Strampelli mi ha consentito di conoscere una persona alla quale io vorrei stasera dedicare questo incontro, questa nostra chiacchierata, una persona che tanti di noi conoscono ed è Norberto Pugna che si è andato troppo presto, ci siamo conosciuti per organizzare un bellissimo convegno sul quadro di cui si è tantissimo speso, un convegno internazionale e per vent'anni poi abbiamo proseguito, io pensavo che quell'incontro fosse un incontro fugace, erano due mondi così lontani, il mio suo, lui un genetista, io uno storico, invece poi non c'è stata, tutti gli anni c'è stata sempre qualche occasione per vedersi e questa storia l'abbiamo raccontata un po' girando l'Italia, eravamo, lo dico alla moglie Anna Maria che qui erano una sorta di coppia perfetta ormai, io che raccontavo il passato e lui che affondando su questo passato poi ci raccontava il futuro insomma con un entusiasmo assolutamente straordinario, chi ha avuto modo di conoscere Norberto sa bene che è una persona estremamente schiva, non amava avere l'attenzione su di sé per cui non la faccio assolutamente lunga, è soltanto una detica, una detica per tante ragioni, la principale, dico soltanto la principale è che lui sarebbe stato qui stasera insieme a noi ma soprattutto insieme a me ancora una volta a raccontare il passato e a raccontare il futuro, io gli dedicherei almeno un applauso a Norberto. Una storia straordinaria, è vero, ha ragione Fabrizio quella di Nattereno Strampelli, una storia che comincia qui in questo luogo, fatemi fare un altro piccolo parentesi su Norberto, c'è il libro che avete avuto, credo che sia la seconda immagine, io l'ho ritrovata da pochissimo, è un'immagine dove c'è anche Norberto peraltro, ma è una foto che ha voluto fare lui con tutta la forza quella foto ed era l'occasione di questo congresso mondiale perché c'erano studiosi, scienziati veramente da tutte le parti del mondo, dalla Cina, l'Australia, gli Stati Uniti e Norberto nel certo momento si è ricordato che davanti a questo edificio nel 1927 gli studiosi, gli scienziati del grano di tutto il mondo che si riunirono a Roma e vennero in visita a Strampelli fecero questa foto e lui voleva fare la stessa foto, quindi all'ultimo momento abbiamo cambiato in tipografia proprio questa immagine e anche quella di Notor Su, ecco una piccola parentesi. Dicevo questo è il luogo simbolo di questa storia, è stata a lungo la sede della stazione sperimentale dei cervelli di cultura di Rieti, siamo a Rieti, all'imbocco, all'inizio di Rieti sono una collina, una collina di Campomoro, io qui ci sono salito per la prima volta intorno alla metà degli anni Ottanta, non sapevo nulla di Strampelli, sapevo pochissimo quantomeno e cercavo delle illustrazioni, dovevo determinare le illustrazioni per un mio libro, una storia sociale ed economica di questo territorio e avevo dedicato un paragrafo, un piccolo paragrafo, a dire il vero che c'entrava poco proprio in questo paragrafo, si chiamava dei monti frumentari ai grani strampelli, cioè mettendo insieme questa sorta di ammortizzatori sociali d'anziano regime, i ponti frumentari con una rivoluzione scientifica come i grani strampelli. Cercavo qualche foto, andai via e trovai delle persone estremamente disponibili che facevano tutt'altro mestiere, a dire il vero, perché erano dei geologi. In quel tempo questo posto ospitava, dopo la soppressione del 1967, un istituto che si chiamava Istituto per lo studio della difesa del suono, quindi non c'entrava nulla con la granicoltura, non c'entrava nulla con quello che io cercavo. Mi fecero vedere, però erano persone colte insomma, che quindi hanno avuto la sensibilità di conservare tante cose che sono lì ancora oggi. Mi hanno fatto vedere alcune foto che erano appese ai muri e poi mi hanno portato in una stanza, che era questa, e mi diceva che qui ci sono queste carte, ecco queste carte vedete, questo è l'archivio di tutto lo straordinario lavoro di Nazareno Strampelli, dopo la sua morte erano state impacchettate, chiuse lì e nessuno era andato mai a leggerle. Io mi ci sono provato, ma capirete da soli il disordine, le difficoltà insomma, e man mano veniva fuori una storia che a me ogni giorno appariva sempre più straordinaria e quindi sono tornato poi a fare quello che è il mio lavoro principale, che è quello dell'archivista di Stato e quindi ho riordinato questo archivio, eccolo, riordinato e poi ho iniziato a lavorarci e man mano è venuta fuori la storia che vi racconterò questa sera. Questo archivio è un patrimonio straordinario, racconta tutta la storia, una delle vagine più straordinarie della storia della scienza italiana tra le due guerre, non c'è dubbio, ed era conservato in questo sito. Ora, non più, perché ecco queste sono immagini di attualità, è uno dei luoghi colpiti dal recente sisma, la stazione sperimentale quindi è stata dichiarata inagibile e quindi abbiamo portato in salvo l'archivio, l'ho fatto per motivi istituzionali, l'archivio di Stato ha recuperato tantissimi archivi durante il cratero del terremoto, questo in modo particolare. Vedete, è stata un'operazione anche non semplice, complessa, che ha investito i carabinieri in nucleo TPC, protezione civile, dei vigili del fuoco, i colleghi dell'archivio di Stato, dell'ICPAL, insomma, ecco, siamo ora questo patrimonio straordinario è al sicuro presso l'archivio di Stato. Quando sfogliavo quelle carte, io sapevo poco o nulla, vi confesso che sapevo che insomma c'era il grano tenero, il grano turo, insomma, non andava oltre la mia conoscenza e poi ecco mi apparivano fogli come questo che a me, qui in sala c'è qualche genetista, per lui sorriderà pure, insomma, ma io la prima volta che vedevo questi fogli a me sembravano delle partiture musicali più che un alberi genealogici di nuovi frumenti e li trovavo lì a terra, insomma, quindi è stato davvero davvero affascinante risistemarle e dargli un senso logico. Perché poi vedete chi fa questo mestiere, il mio, che è quello dello storio, dell'archivista, che poi in tantissimi casi come questo finiscono con il convivere, si trova spesso davanti a delle molte, grosse moli di carte. Uno si può limitare a riordinarle, a dargli un senso logico, a tirare fuori i dati scientifici, a metterli in fila, a fare una pubblicazione in modo freddo, insomma, così come la scienza ci impone. Oppure a volte, come in questo caso, si finisce con lo stabilire uno strano rapporto con queste carte. Allora da esse poi, anche perché da esse riemerge tutto, possono riemergere la passione, le delusioni, gli entusiasmi di chi poi, voglio dire, ha compiuto qualcosa di straordinario nella vita, in questo caso un lavoro di scienza incredibile. Io lo dico sempre ai tanti ragazzi, ai migliaia di ragazzi che ci vengono a trovare tutti gli anni in archivio, che spesso capita di parlare di strampelli, insomma, dico sempre che dietro ad ogni grande scoperta, dietro ad ogni grande scoperta scientifica c'è sempre un sogno, c'è sempre un sogno. Senza il sogno non si ottiene nulla, non si ottiene nulla. E non c'è dubbio che dietro al lavoro scientifico di Nazareno Strampelli c'è stato un grande sogno, quello di creare qualcosa che in natura prima non esisteva, da due elementi viventi crearne un terzo che prima non c'era. E si badi, Nazareno Strampelli operava quando le leggi di Mendel non erano assolutamente note, siamo qui in questa mostra straordinaria organizzata magnificamente tra i curatori della mostra, c'è Fabrizio Rufo, tutti i miei complimenti perché sono riusciti a decodificarci in termini intellegibili, qualcosa di estremamente complicato, ma lì c'è la storia del DNA, la storia di Mendel, ma quando Strampelli operava queste leggi non erano note. Mendel le pubblicò in una quarantina di copie, non se ne accorse nessuno. Poi vedremo come vennero riscoperte nel 1905 quando Nazareno Strampelli, già dal 1900 aveva iniziato a fare delle ibridazioni, degli incroci, quindi insomma senza sapere minimamente che stava mettendo in pratica alcune delle leggi più straordinarie della storia della scienza. E questo è quel luogo, a volte c'è un dibattito aperto su cosa farne, insomma è di per sé un museo straordinario che così come ce l'aveva lasciato Strampelli, c'è questo erbario unico al mondo, ci sono tutti i suoi grani che ha creati Nazareno Strampelli nel corso degli anni. Ecco vedete, ogni tavoletta è un grano, c'è il percorso genetico seguito, ci sono le ampolle, parte di alcune di queste sono nella mostra e c'è lo studio che è rimasto così, non perché qualcuno l'abbia avuto a museografizzare ma semplicemente non c'era entrato più nessuno. E per me, io in questo studio ci ho lavorato tre anni, capirete da soli è l'emozione di lavorare qui dentro, di vedere carta per carta questo lavoro incredibile di Nazareno Strampelli. Perché vedete ecco, tutto nasce da un dualismo, c'è tra queste due persone, da una parte è Nazareno Strampelli e dall'altra Francesco Todaro. Francesco Todaro è un grande scienziato, era il capo scuola in Italia del metodo che si usava in Italia come in tutto il resto del mondo, la selezione genealogica. Francesco Todaro era docente di agraria, l'Università di Bologna, il riferimento di tutti i governi, insomma, quindi si faceva la selezione genealogica. L'ibridazione non esisteva, non era contemplata. Nazareno Strampelli è colui che arriva, mette in discussione una verità sacra, indiscussa e nel corso degli anni la demolisce. Nazareno Strampelli non ho mai incrociato una polemica di Nazareno Strampelli, tranne una con Francesco Todaro. Lui aveva capito che il suo alter ego era Francesco Todaro. C'è un dibattito giornalistico fortissimo da loro due, con toni veramente pesanti. Francesco Todaro che difende il suo ruolo, la sua tradizione e tenta di ironizzare su queste creazioni di Nazareno Strampelli e Nazareno Strampelli che dimostra di volta per volta invece la sua superiorità. Un dibattito che è andato avanti per molti molti anni. Alla fine Francesco Todaro riconosce pubblicamente la superiorità dei grani Strampelli. Molto duro ma di grande rispetto. C'è un passaggio. In alcuni anni era nata una sorta di gara negli anni venti tra i grani Strampelli e i grani Todaro. Si facevano prove e gare un po' in tutta Italia per vedere quale produceva di più insomma. E c'è tra quelle carte che vi dicevo poi una una lettra di un proprietario terriero che dice guarda caro Strampelli stiamo provando stiamo mettendo a confronto ma non c'è dubbio che i due sono migliori inizia a sbeffeggiare Todaro. Dice adesso insomma gli facciamo fare una figuraccia cose di questo tipo. Naziano Strampelli gli risponde ritarguendolo dicendo come ti permetti tu di parlare così di Francesco Todaro. Sia io che Todaro lavoriamo per il bene nel nostro paese per cui tu non ti devi minimamente azzardare a trattare così a rivolgerti così a Francesco Todaro. Un rispetto che è durato nel tempo perché solo qualche mese fa a gennaio a Bologna l'Università di Bologna si è tenuto un importante convegno su Francesco Todaro e io sono stato chiamato a raccontare Nazareno Strampelli quindi questo rapporto voglio dire che è che è rimasto in piedi tra due scienziati. Ecco Strampelli a ci arrivò come vincitore di un concorso per direttore di una cattedra ambulante di granicoltura. Le cattedra ambulanti che sono strutture benemerite per carità ma erano insomma la loro mission era quella della divulgazione agraria dovevano spiegare ai contadini quali erano i infertilizzanti migliori qualsiasi cosa coltivare insomma. Ora nulla da ridire ma Nazareno Strampelli, e torniamo al sogno, perché arriva a Rieti? Nazareno Strampelli era già assistente di chimica all'Università di Camerino, aveva già diretto i laboratori chimici delle miniere dell'Argentario, era molto ben inserito nel mondo dell'agraria marchigiana, svolgeva un ruolo centrale importantissimo all'interno del comizio agrario di quei luoghi, a un certo momento abbandona tutto per arrivare a Rieti a dirigere questa cattedra ambulante. E c'è un motivo, a Rieti c'era un grano, il Rieti originario, era un grano famoso fin dal Settecento, era un grano che resisteva ad una delle principali malattie, gli attacchi tra le ruggini, era considerato un po' miracoloso e su questo grano si facevano affari, il mondo dell'agraria, dell'aristocrazia, della borghesia agraria del tempo, insomma riusciva a fare dei buoni affari, il principe potenziani che è uno dei principali proprietari terrieri della pianura ariatina, aprì dei centri di vendita del Rieti originario anche nella pianura padana, Bologna per la pianura padana insomma, era un grano che cresceva solo qui, questa è la pianura reatina, portato fuori cambiava radicalmente, insomma quindi bisognava coltivarlo solo qui. E lui aveva in testa il sogno di cui vi parlavo prima, conosceva questo grano che resisteva alle ruggini, ma non resisteva all'allettamento, conosceva un altro grano che era un grano giapponese, la Gikomogi, che aveva caratteristiche esattamente contrarie, non resisteva assolutamente alle ruggini, ma resisteva all'allettamento, perché era un grano basso, di taglia bassa. Il sogno di Strampelli, se io riesco a fare un grano che ha le caratteristiche positive del Rieti originario e quindi resiste alle ruggini e resiste poi all'allettamento come grano giapponese, ha fatto un grano straordinario che darà dei grandissimi risultati. Inizia lui a fare un doppio lavoro, da una parte fa direttore della cattedra ambulante di granicoltura, dall'altro inizia a sperimentare, quasi di nascosto. Questa foto è estremamente indicativa, perché poi quel principe potenziale di cui parlavamo prima è colui che gli dà gratis un piccolo fondo agricolo, qui siamo in una località che si chiama La Torretta, e vedete come Strampelli inizia a fare le sue sperimentazioni. Questa foto è dei primissimi del Novecento, che non gli competeva di fare, anzi questa cosa gli creavano pochi problemi tra i proprietari di Rieti, perché loro volevano che lui valorizzasse Rieti originario, non che creasse altri grani, che poi andarono a demolire Rieti originari nel corso del tempo. Vedete queste piccole culture protette di un metro ciascuna? Insomma, sono le primissime britazioni fatte da Nazareno Strampelli. Ora, però non pensiamo che la storia di Nazareno Strampelli sia la storia di uno scienziato come dire, anche un po' sfortunato, che lavora lì da solo. Nazareno Strampelli era una persona estremamente pacata, ma era... Nazareno Strampelli riuscì a ottenere sempre tutto, dai governi giurittiani al fascismo. Era consapevole della sua onestà intellettuale, era consapevole della bontà dei suoi obiettivi, e quindi sapeva anche battere il pugno sui tavoli giusti, anche se dall'altra parte ci si trovava spesso i sottosegretari, i direttori generali al Ministero dell'Agricoltura, e spesso, più di una volta, lui rimetteva tutto sul tavolo. Non ottengo questo? Io mi fermo qui, restituisco le chiavi di tutto quello che sto facendo. e quindi anche una storia di strutture, strutture importanti che Nazareno Strampelli riuscì a ottenere in tutta Italia. Questa è la prima, non è la prima sede, la prima sede... ce ne sono state altre due di sedi, ma erano in affitto. Questo lui ottenne che venisse costruito appositamente la stazione sperimentale di cerealicoltura di Rieti. ma poi ottenne, questa è una foto attuale, ecco questa è un'altra struttura, lui ebbe la grande intuizione che se si producevano grani bisognava controllare anche la commercializzazione dei grani, e quindi la creazione dell'Arze, la sua azione riproduttore dei sementi che controllava la vendita e garantiva la purezza dei grani che venivano venduti. Anche questo stabile era a Rieti, è a Rieti tuttora, oggi si percepisce un po' meno, nell'attuale asse di via Le Maraimi. ottenne, quando tutto questo gli sembrava poco ottenne la creazione di quest'altra struttura che era l'Istituto Nazionale di Genetica per la cerealicoltura, che io non so più cosa che Pini abbia fatto in questo periodo, non oso immaginare, ma fino a qualche tempo fa questo è un istituto che ha diretto peraltro a Roberto Pogna di cui abbiamo già parlato e che, voglio dire, è stata un po' la seconda casa in Alzareno Strampelli, si trova sulla Cassia, vicino a Piazza Giochi Delfici, è di proprietà del Crea, l'ultima notizia che avevo è che era stato messo in vendita sciaguratamente, lì c'è un pezzo di storia straordinario qui dentro. E poi le stazioni fitotecniche, lui volle centri di ricerca, ecco la struttura oggi, con una biblioteca magnifica, con le scritte di Varrone, insomma un posto davvero affascinante. E poi le stazioni fitotecniche, centri di ricerca in ogni parte d'Italia, questo è il castello Morando Bolognini di Sant'Angelo di Giano, ricevuto in donazione, pensate, insomma, dove si creò questo centro di ricerca tuttora esistente, dove qui, vedete come viene sempre di parlare di Roberto, perché qui siamo stati insieme, abbiamo curato una mostra insieme che è permanente, è rimasta permanente in questa struttura, perché volevano portare tutto quel patrimonio che abbiamo visto all'inizio, volevano trasferirlo tutto qui perché ci sono dei musei qui dentro e quindi volevano quelle spighe e allora abbiamo cercato di farli ragionare, anche lì abbiamo parlato con persone assolutamente disponibili, persone che lavoravano per valorizzare strambelli, anche loro, che era inutile, era bene lasciare nel posto di origine quelle cose e lì con Norberto abbiamo realizzato una mostra, una parte storica che ho curato io, una parte per il futuro curata da lui ed è lì a Sant'Angelo di Giano, insomma. Foggia, una delle prime stazioni fitotecne, qui Stambelli voleva, lavorava sui grani duri perché quindi aveva bisogno di lavorare su un territorio arido come il tavoliere delle Puglie. Vi dette un fondo all'inizio, titolo gratuito il senatore Cappelli, Raffaele Cappelli, da cui poi Stambelli lo ripagò con il nome ad un grano che è un grano famosissimo tutt'oggi, la pasta senatore Cappelli, insomma, è quella che si usa spesso nell'alta ristorazione. Peraltro, una battuta lo dico agli amici genetisti, agronomi che sono qui, Stambelli resta in vita con questo grano che è l'unico che non è stato creato con il suo metodo, non è frutto di un'ibridazione ma è frutto di selezione genealogica, quindi il metodo di Totaro, il suo nemico, non il suo, insomma. E Foggia che oggi è diventata questa cosa qui, che è un importantissimo centro di ricerca per la città di cultura italiana, insomma. Ecco, no, vi dicevo prima, queste sono solamente alcune delle strutture perché le stazioni fitotecniche erano anche di più, ce n'era una a Cagliari, ce n'era una a Badiapolesi, una a Urbino e poi c'erano centinaia e centinaia di campi di prova in tutta Italia ma anche poi in tutto il mondo, nei suoi grani. Questi sono tre grandi scienziati, tre grandi scienziati che sono Ugo De Vries, peraltro nella mostra c'è una lettera di Strambelli a Ugo De Vries, Carl Correns e Eric Zermack, che sono i tre scienziati che nel 1905 scoprirono, riscoprirono le leggi di Mendel, erano arrivati anche loro ad analoghi risultati insomma e quindi fu proprio Zermack che insomma iniziò a divulgare poi le leggi di Mendel. Cioè a dire insomma che se loro non l'avessero fatto Mendel sarebbe stato lo Strambelli insomma ecco, sarebbe stato lui a teorizzare le leggi sull'ibrilismo insomma, che però già esistevano. Ecco vedete Carlotta, Carlotta è stata la sua moglie, la sua compagna importantissima ed è lui che dedica, il primo grano che Nazareno mette in circolazione è il Carlotta, è un grano che fa gridare al miracolo perché aumenta la produzione del 40%, negli ambienti governativi del Ministero dell'Agricoltura dicevano smettiamo di coltivare tutti i grani, coltiviamo solo Carlotta e fu Strambelli che gli disse no fermatevi perché quest'anno è un anno particolare e magari non è detto che poi tutti gli anni i risultati saranno questi. Ma questo grano gli consentì di entrare, come dire, nella porta principale nel mondo della grana italiana. Grazie a questo grano Strambelli ricevette un premio importantissimo il premio Santoro dell'Accademia dei Vincei cominciò ad essere una rete di relazioni importantissime Giuseppe Cuboni, un grandissimo agronomo gli fece pubblicare delle cose negli atti dell'Accademia dei Vincei però, voglio dire, Strambelli ha lavorato fino agli anni 20 dall'inizio del secolo in una dimensione totalmente sperimentale abbiamo visto le agliole, i vasi di fiori di grano a cultura c'era solamente c'era solamente il Carlotta vedete questo campo sperimentale si trova sotto la stazione sperimentale doveva essere ancora costruita non c'è, sta qui sopra ecco qui viene poi costruita la stazione sperimentale queste sotto, vedete, sono delle agliole sono centinaia di tipi di grano che lui sperimentava ma lui non era con non sapeva nulla cosa sarebbe accaduto se uno di queste aviole dovesse essere dovesse diventare di migliaia di ettari insomma dove i grani Strambelli trovano applicazione la trovano durante il fascismo la trovano nella battaglia del grano ora, io quando facevo questo lavoro all'inizio conobbi un un vecchio ricercatore un vecchio genetista che aveva lavorato in quella stazione sperimentale mi raccontava cose era anziano e quindi mi raccontava queste storie che fanno pensare un po' leggende metropolitane mi raccontava di visite notturne di Mussolini a Strambelli di arrivi all'improvviso di Mussolini ovviamente non gli ho mai dato credito finché non sono non ho consultato poi le carte del gabinetto del Duce dei Mussolini e che poi invece confermavano tutto quello che mi aveva detto si chiamava Margheritelli si chiamava questo genetista e si sono trovati i biglietti stasera vado a Strambelli chiamatemi Strambelli e così via e aveva ragione lui quando diceva la battaglia del grano è stata decisa lì in una stanza si conduce due sedie agli opposti di questo tavolo una per Mussolini e una per Strambelli e Mussolini ecco vedete Vittorio Emanuele Mussolini e Strambelli tra i campi di grano insomma quindi il rapporto poi man mano sono venute venne fuori un rapporto che era vero insomma confermato perfino da fotografie ora dichiarare la battaglia del grano voleva dire una cosa incredibile voleva dire affrancarsi dalla voce negativa per eccellenza della nostra bilancia dei pagamenti è un po' come se oggi il nostro Presidente del Consiglio ci dice che tra dieci anni non importeremo il petrolio in Italia è un po' come o è impazzito o ha scoperto il petrolio da qualche parte perché altrimenti non non si capisce e Mussolini il petrolio l'aveva l'aveva scoperto ed erano i grani i grani i grani Strambelli vedremo poi ecco vedete Strambelli Mussolini ancora Vittorio Emanuele tra i grani ora la battaglia del grano è stata e resta una delle pagine della ritorica fascista collocata dentro il quadro dell'autarchia insomma dentro la demagogia dell'autarchia l'unico a vincere la battaglia del grano fu Mazzareno Strambelli perché è vero che alla fine di questo percorso si raggiunse la deficienza granaria ma erano vere anche tutte le critiche che si muovevano ecco vi dicevo prima cosa aveva Strambelli in mano Mussolini iniziamo nel 25 la produzione massima che si otteneva al mondo era quella degli Stati Uniti dove si producevano 8,8 quintali per ettaro 8,6 se ne producevano in Russia e guardate i dati che Strambelli aveva su quei vasi da fiori e su quei laioli a livello sperimentale Strambelli superava i 40 quintali per ettaro e quindi qualcosa di e queste sono alcune delle varietà create da Strambelli e lo stesso discorso questi sono i risultati del campo sperimentale di Foggia insomma dove i risultati erano altrettanto altrettanto straordinari e ora guardate questa questa tabella siamo nel 27 quindi la battaglia del grano era già cominciata e queste erano ancora tutte le varietà che non c'entrano nulla con le varietà Strambelli che si coltivavano in Italia erano decine e decine di varietà diverse quindi le campagne italiane erano coltivate con queste varietà di grano guardate nel 31 quindi a pochi anni da quella da quella vicenda come sono cambiate le cose le vecchie razze sono ridotte enormemente le nuove razze hanno una percentuale notevolissima e guardate la percentuale dei grani Strambelli man mano i grani Strambelli vanno acquisendo il monopolio della cerchia agricoltura italiana e guardate come quei 22 milioni di quintali di importazione l'anno guardate come scendono per arrivare a 1942 a quasi zero insomma ora dentro il regime c'era c'erano delle teste venzanti una di queste era sicuramente Enrico Serpieri sottosegretario di Stato della bonifica integrale il quale insomma disse al Duce guarda che insomma non funziona così l'economia ormai siamo in un'economia globale l'Italia non è pronta per una rivoluzione totale con i grani Strambelli e gli pose il problema del dualismo delle due Italia cioè un sud latifondista dove c'è una rendita parassitaria di grandi proprietari c'è un nord che potrebbe beneficiare di una rivoluzione così così drastica ma soprattutto non abbiamo macchine macchine agrarie non abbiamo concimi e bisogna fare una cosa prima di applicare i grani Strambelli dobbiamo fare una riforma agraria e Serpieri la scrisse questa riforma agraria la scrisse e Mussolini all'inizio sembrò dagli retta poi quando si andò a confrontare con gli agrari del sud la lasciò in un cassetto insomma e preferì fare altre scelte ora questa cosa la racconto spesso ai ragazzi per fargli vedere che la storia non è mai bianca o nera Enrico Seppieri quella riforma agraria la scrisse con due giovani collaboratori che erano Maglio Rossi Doria ed Emilio Sereni che poi nel dopoguerra diventarono responsabili dell'agricoltura e della cultura del partito comunista e che ritirarono fuori quella riforma agraria scritta negli anni negli anni venti la ritirarono fuori e quella costituì la base per la nota riforma agraria medici nel dopoguerra insomma quindi la fine della mezzatria eccetera eccetera ma l'aveva pensata Enrico Serpieri durante il fascismo insieme ad Emilio Sereni e a Maglio Rossi Doria sì vedete come i dati poi dell'importazione di macchine agrarie durante la battaglia del grano crebbe enormemente da 19 milioni a 90 milioni dal stesso discorso vale per i fertilizzanti insomma aveva ragione Enrico Serpieri tanto è vero che alla fine la nostra bilancia dei pagamenti rimase pressoché in mutata l'unico a vincere la battaglia del grano fu Nazareno Strampelli con i suoi con i suoi gradi perché vedete poi insomma non si riusciva a spiegare ora la storiografia dice sì è vero perché non si poteva negare che poi non si importasse più grano perché era un dato oggettivo ma sicuramente si è aumentata la superficie a dismisura a scavito di altre culture non è vero la battaglia del grano poi di altro non fu che un superorganismo un superorganismo presieduto dallo stesso Mussolini e del quale faceva parte Strampelli e una serie di provvedimenti che manò una serie di provvedimenti legislativi e Strampelli una delle prime cose che disse dobbiamo raggiungere l'obiettivo senza aumentare in un solo metro quadrato la cultura di grano e così fu il leggero aumento che vedete in questa tabella nel 34-35 si deve alle terre recuperate dalla bonifica integrale insomma che furono messe a cultura immediatamente ma quindi non c'è un aumento di superficie così non c'è una diminuzione di superficie destinata al pascolo sostanzialmente i dati sono sono quelli quel poco che c'è perché Strampelli riuscì a creare tantissimi grani adatti ad ogni zona compreso alle zone collinare dove quindi divenne più come dire più conveniente coltivare il grano piuttosto che piuttosto che altro e vedete come progressivamente i grandi Strampelli qui siamo nel 32 acquisiscono la superiorità la superiorità il monopolio pressoché assoluto nelle varie regioni italiane ho voluto mettere le ultime due regioni le Marche e il Lazio le Marche sono la regione che li dette i Natali e il Lazio quello dove è vissuto a Rieti e vedete le percentuali sono basse questa cosa manda pure su tutte le furie Mussolini insomma retarguì gli agricoltori di questi territori dice ma come? proprio voi che avete avuto qui strampelli siete quelli che coltivate meno i suoi i suoi grani questa la stessa tabella vale per i grani dedicati ai grani duri questo è anche sostanzialmente il monopolio dei grani strampelli è totale ora c'è un capitolo del della storia degli strampelli della quale lui non ha mai voluto parlare non ha mai citato neanche nei suoi scritti nei quali ha ripercorso un po' un po' la sua vita il suo lavoro ed è il capitolo dell'Argentina il capitolo dell'Argentina collima e coincidente con la battaglia del grano ora strampelli aveva ricevuto tantissime proposte di andare a lavorare all'estero in Russia in Francia aveva sempre non aveva mai accettato non si è mai voluto spostare da Rieti in Argentina ci va arriva il ministro dell'agricoltura argentino per due volte a Rieti per convincerlo si chiamava Tommaso Le Breton e l'Argentina aveva bisogno di mettere a cultura a cultura celericola la Pampas argentina territorio sterminato e quindi aveva bisogno di una persona come strampelli che potesse studiare fare un progetto di messa a cultura e ci va io mi sono fatto una ragione non è che lui l'abbia mai lasciata scritta da qualche parte quando Taino Stampelli va in Argentina è un personaggio famoso le prime pagine dei giornali parlano quindi Taino Stampelli parte per l'Argentina viene accolto vedete questo è sull'Andrea Doria sulla nave viene accolto da due comitati il primo Presidente della Repubblica Argentina e l'altro dal Ministro dell'Agricoltura insomma viene accolto con tutti gli onori è un personaggio notissimo in Italia e soprattutto nel mondo italo-argentino che si muove nel mondo soprattutto dell'imprenditorialità italo-argentina che si muove in tutte le forme vedete nasce un centro di ricerca e di divulgazione di grani Stampelli ad Olivos c'è questo imprenditore pacifico toscano che insomma avvolge Stampelli lo riempie di lettere guardate anche questa carta intestata così fastosa insomma tenta in soldoni tenta di sfruttare alla fine i grandi Stampelli vuole l'esclusiva vuole essere lui il rappresentante di Stampelli in tutta l'America Latina finché Stampelli poi all'inizio gli dà credito poi quando si accorge che c'era questo interesse lo abbandona totalmente insomma lui banta questo pacifico toscano grandi agganci all'interno dell'apparato governativo argentino insomma Stampelli lo lascia lungo la strada insomma a un certo momento si interrompono completamente i loro rapporti ma perché Naziano Stampelli viene in Argentina? Naziano Stampelli si mette paura quando arriva Mussolini e gli dice ora prendiamo i tuoi grani e le tue ampolle e il tuo vaso da fiori e ci coltiviamo l'Italia lui si mette paura e e non è che scappa ma va in Argentina e quando il ministro del Bretone chiede dice cosa vuoi quanti soldi vuoi lui dice io non voglio non voglio soldi e lui in cambio chiede solo una cosa chiede delle condizioni particolarmente favorevoli di importazione di grano dall'Argentina verso l'Italia come dire se fallisco con la battaglia del grano ora ho fatto qualcosa di buono per il mio paese lui era ossessionato strampelli dal dover fare qualcosa di importante per il suo paese e questo non si legge soltanto nelle cose tra virgolette pubbliche ma anche nelle lettere private nelle lettere la corrispondenza con sua moglie Carlotta insomma lui è ossessionato da tutto questo e e questo fa perché guardate l'importazione di grano dall'Argentina dal 22 quando lui va lì tra l'importazione e solamente il 5% arriva in dieci anni al 26% insomma quindi l'Italia importa grani dall'Argentina che poi sono i grani strampelli che si coltivavano lì in Argentina e poi tornavano tornavano in qualche modo in Italia e nel 29 Strampelli venne nominato senatore per altri meriti scientifici fu sicuramente un riconoscimento importante a dire il vero mi è capitato di leggere questa lettera insomma che lui scrive al Duce e quando sa di questa nomina insomma ecco lo invita a dire perché non nomini un altro a posto mio dice io avrei altre cose da fare insomma quindi cerca di sottrarsi ovviamente non gli era non gli era possibile sottrarsi ma insomma questo questo ruolo non è che gli pesò particolarmente devo dire a vedere il suo fascicolo personale al Senato è pressoché vuoto Strampelli non si è mai interessato di politica aveva anche una sua ironia Strampelli una sua ironia molto 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 pungente e di tanto in tanto la tirava fuori almeno in due occasioni le voglio raccontare la prima è proprio all'inizio della sua carriera nel 1903 quando riede vuole a tutti i costi questa cattedra ambulante di granicultura e poi e poi non riesce a trovare neanche una sede insomma e Strampelli sul fondo di una sedia ci scrisse a matita questa è l'unica cosa che ho avuto al comune di Rieti per oltre un anno di vita della stazione sperimentale di città agricoltura la raccontò suo figlio Benedetto questa cosa la raccontò la scrisse la scrisse in un piccolo opuscolo ma la cosa bizzarra è che poi in cantina in quella struttura l'abbiamo trovata davvero quella serie ed era vero lui aveva scritto questa cosa ed è lì quella serie una tonnè con un fondo scritto questa cosa ed un'altra cosa a volte si è dibattuto qualcuno entrato dentro Strampelli fascista Strampelli Strampelli si è disinteressato sempre di tutti Strampelli ha alzato gli occhi al suo lavoro soltanto in un'occasione anche questa che lui non ha mai mai ricordato non ha mai scritto mi è toccato scoprirlo a me tra le carte è stata nel 1915 in occasione del terremoto di Avezzano quando Strampelli lascia tutto il suo lavoro e va nel Cicolano a raccogliere bambini e li porta a Rieti li porta lì centinaia e centinaia di bambini salvati tra le macerie di quel terremoto che fece circa centomila morti insomma quindi Strampelli non ha mai alzato gli occhi al suo lavoro non si è mai si è totalmente disinteressato della politica anzi tra le tante carte ecco quelle che generano poi emozioni mi è capitato di aprire una busta o meglio erano due buste erano due versioni diverse del suo testamento una però mi ha fatto davvero sorridere perché lui fuori dalla busta ci ha tenuto a scrivere che l'aveva scritta durante una seduta del senato quindi durante una seduta del senato lui si è scritto il suo testamento insomma ecco per dire quanto interesse avesse avuto Strampelli per la politica per il fascismo insomma e tanto è vero che i grandi Strampelli che si trovano alla base di una delle pagine più forti della retorica fascista furono utilizzati nella Cina di Mao Zedong eh ancor prima negli anni trenta arrivarono ricercatori cinesi a Rieti insomma per vedere questi due casi si fece una mostra di grani Strampelli in Cina e nella rivoluzione culturale cinese i Mao Zedong furono largamente impiegati e c'è un grano che oggi è coltivato su una superficie enorme più grande dell'Italia che in realtà è un derivato del San Pastore adesso io non so il nome in cinese insomma però tutt'oggi è coltivato insomma la produzione cinese grazie ai grandi Strampelli aumentò aumentò di cinque volte passando da sette a trentacinque quintali e questo potete capire da soli cosa può voler dire ha voluto dire ecco vedete ecco il testamento perché poi si legge si legge questo testamento ed è bellissimo questo testamento perché è il testamento di una persona comune la Zedong Strampelli si avesse sfruttato economicamente il suo lavoro sarebbe stato tra gli uomini più ricchi forse l'uomo più ricco del mondo il surplus di valore creato in Italia solamente per un nel periodo della sua vita misurato oggi è di oltre 15 miliardi di euro e soltanto in Italia ha messo i grani sovoltivati in tutto il mondo invece il suo testamento è il testamento di una persona normale al primo punto c'è un'ipoteca sulla casa natale di Crispiero al figlio Benedetto e poi il primo pensiero alla sua compagna a Carlotta che era morta nel 1926 il suo cane le cose le cose le cose più intime ecco e Srampelli testimonia anche Srampelli è sempre vissuto di uno stipendio uno stipendio ogni volta che creava una nuova struttura quando creò l'istituzione di genetica per la ricericoltura e lui ne era direttore così come era direttore a Rieti lui pretese di conservare lo stipendio di Rieti non volle un'aggiunta del suo stipendio non possiamo dire che fu povero ma non ebbe nessuna ricchezza da lasciare a chi che sia la storia di Srampelli è anche una storia di etica di etica del fare ricerca insomma a me sono stato sempre convinto di una cosa per tornare per tornare ancora una volta a Norberto Pogna che insomma lui ha sempre cercato a mio avviso di di somigliarli abbiamo cercato un po' tutti di somigliarli di lavorare con quello stesso disinteresse con quello stesso entusiasmo perché è un modo di fare scienza che oggi davvero non esiste più ecco vedete io adesso ho terminato solitamente solitamente passavo a questo punto la parola a Norberto che proseguiva ci parlava dei suoi suoi sogni eh di grani che potessero non essere più ripiantati e non fossero una costrizione per le popolazioni soprattutto del terzo mondo insomma e spesso ci leggevo quello stesso entusiasmo quello stesso disinteresse che apparteneva a Srampelli e a lui che è dedicato tutto questo grazie e ancora a lui questo applauso ovviamente ecco io so che adesso c'è sono previste domande piccoli interventi insomma chi interviene ecco c'è una signora buonasera a tutti io sono Giuseppina del Signore dell'Enea intanto grazie per questa bellissima esposizione poi quando c'è una contaminazione fra storia e scienze c'è sempre un piacere perché si scoprono sempre cose nuove la mia più che una domanda è un'occasione perché mi sembra il momento anche adatto per comunicare che l'Enea insieme all'Accademia delle Scienze detta dei 40 e con la Business Professional Women che è una grande organizzazione che esiste in tutto il mondo anche in Italia quindi con la Federazione Italiana Nazionale sta organizzando per il 7 e l'8 una conferenza una conferenza in cui verrà istituita la premio e che會 Setterllino la prima edizione di questo premio e l'abbiamo voluta fare dedicandola a Carlotta Parisani Strampelli perché vogliamo innanzitutto valorizzare la figura della Carlotta Parisani e quello che è già e tutto il lavoro da lei svolto insieme al marito e poi per dare un'opportunità anche alle giovani ricercatrici italiane in questo caso, ma speriamo di fare delle edizioni anche future e vincere appunto questo premio dedicato alle giovani ricercatrici italiane. Abbiamo molti collaboratori, abbiamo degli accademici e quindi pensiamo che questo premio e questa conferenza nasca sotto i migliori auspici e che possa proseguire nel tempo. Era solo questo che volevo dire. Grazie. È stato bellissimo sentire la storia di Strampelli e mi dispiace che ci siamo dovuti fermare e non parlare del futuro perché sarebbe stato bello sentire il proseguimento. Io mi chiamo Cesare Silvi, sono nato nella Valle del Salto e gestisco un'organizzazione di volontariato che pensa di guardare al futuro. Quando vedo la Valle del Salto e ricordo come era, era un giardino, era tutto coltivato, era abitato, poi negli ultimi 60-50 anni sta diventando un deserto e mi chiedo ma oggi quella vivacità che Strampelli manifestava sul territorio c'è qualche seme, c'è qualche cosa nella quale sperare? Perché si parla tanto dell'agricoltura moderna, si parla di nuove cose, c'è qualche cosa che si può fare e immaginare in questo momento? Ti rispondo, caro Cesare, Strampelli non appartiene del tutto al passato, continua a vivere nei suoi grani. C'è una frase bellissima che lui scrive, la si utilizza spesso, l'ho anche riutilizzata nella quarta ricopertina del mio libro ma la ricordo a mente, lui dice l'uomo non è padrone del tempo, il grande calantomo che tutto mette a posto e il tempo a me è mancato di fare tante cose che pure avrei voluto fare. Le mie pubblicazioni, quelle a cui tengo davvero sono i miei grani, non importa se essi non portano il nome mio ma ad essi è e resta affidata la modesta opera mia e i suoi grani continuano a vivere. Oggi esistono tante esperienze, sono contento che anche a Rieti si è tornati a coltivare i grani di senatore Cappelli, ci sono anche qui stasera in sala, stanno scendo un pastificio, ci sono piccoli produttori che hanno ricoltivato, stanno facendo della pasta, ma questo accade in tutta Italia. a me credo di andare decine di volte in giro a raccontare questa storia in iniziative organizzate da piccoli pastifici piccoli e medi pastifici, quindi è un'occasione anche occupazionale, insomma si possono tornare a coltivare questi grani e oggi sta prendendo una piega, una piega voglio dire che sta crescendo a dismisura tutto, sta diventando quasi una moda. L'ultimo progetto che avevamo immaginato con Norberto Pogna e Benito Giorgi che è qui stasera era quello di riprendere poi il lavoro di quel convegno del 2000 e andare avanti e fare un lavoro di livello internazionale che ci aveva commissionato e aveva rapporti proprio con Norberto la Barilla, la Barilla la quale però in un certo momento gli stava creando dei problemi, l'ultima volta abbiamo fatto anche qualche battuta, erano quasi preoccupati, diceva ma cosa facciamo noi, ci mettiamo a promuovere la concorrenza come se il grano sedatore i cappelli potesse essere una concorrenza per la Barilla, per un gigante come la Barilla. Purtroppo quel lavoro non lo faremo più, non lo faremo mai più ovviamente. Vorrei prendere la parola Anna Maria? Sì, sì. Purtroppo, purtroppo non la vedo, è il mio vero, mi ha cercato questo ruolo, però in casa c'è una delle questioni, per un po' mi ha servito la proposta anche di mettere i campelli e la proposta anche che mi ha già portato avanti per costruire il futuro, c'è l'idea che limite a un progetto sulla regione Lazio, sul monococco, c'è l'idea, la presentante di l'idea che sta portando avanti sia i grani che altri cereali che possano proprio aiutare la realtà di l'idea che hanno fatto, perché ci sono delle testimonianze che mi fa anche tanto, perché è lo stesso appoggio che le nostre amici. Come no? Come no? Una cosa, una delle ultime, volte che ci siamo visti con Norberto, è stato nelle Marche a San Severino, lo dico, scusami solamente una parentesi perché è bellissima, ci siamo visti, c'è Caterina che era con me e lui aveva ripiantato tutti i grani strampelli ed era felice in mezzo, aveva fatto questa sorta di museo vivente, ecco io ho questa sua immagine in mezzo ai suoi grani e lo ricordo più così in mezzo ai suoi grani che così accademico, così da conferenziere. Prego. Io sono Olivio Perini, io ho avuto nel corso della mia vita il privilegio di conoscere il il professor Norberto Pogna, con lui abbiamo intrapreso un percorso di qualificare un territorio del nostro comune in cui io opero, un'azienda agricola che è Paliano, provincia di Frosinone, rilanciandolo con il grano monococco. Io sono un agronomo, così marginalmente avevo ricordi sul grano monococco quando studiavamo, quando eravamo studenti, con lui ho apprezzato questo tipo di prodotto, questo grano e ormai il territorio ha sposato questo progetto, tanto è che abbiamo fatto anche un progetto regionale, un progetto finanziato dalla comunità economica europea, è Monella che è monococco nel Lazio, di cui l'azienda della famiglia e il professor Norberto Pogna hanno veramente messo il punto su un prodotto che potrebbe riqualificare un territorio. Ormai tutti ne parlano, tutti sanno che cos'è il grano monococco nel nostro territorio, perché così pensiamo che possiamo dare un rilancio alla nostra economia. Io ogni volta che parlo di Norberto mi emoziono perché con lui scherzavamo, con lui si facevano tante cose. Era un uomo di eccezionale modestia, un eccezionale spirito di collaborazione e di volontà di aiutare il prossimo. Non vorrei spendere parole inutili, ma spero solo che traspaiano nella mia emozione quello che io ho avuto con il professor Norberto Pogna. Abbraccio caramente Anna Maria e noi stiamo continuando il lavoro che con Norberto abbiamo iniziato. È un mio impegno che io con lui ho, quindi è una sfida che fino a che vivrò io e la mia famiglia porteremo avanti. Con la speranza che possiamo avere anche, abbiamo buone possibilità di avere dei grandi risultati, perché ci stanno dando grande soddisfazione questo grano monococco. Vi saluto e vi ringrazio. Io ti voglio ringraziare Roberto per questa presentazione e per averci fatto rivivere la storia di Nazareno Strampelli. Credo anche che aver dedicato questo volume a Norberto Pogna sia qualcosa di straordinario che hai fatto. Norberto Pogna era un amico, un grande amico con cui abbiamo lavorato insieme tanto tempo e proprio anno scorso abbiamo visto insieme la genealogia che ricostruiva i grani di Strampelli che lui aveva costruito a San Severino. Tu ne hai appena accennato adesso. E quando parlavo con gli amici qui che hanno organizzato il convegno gli dicevo guardate che è difficile ricostruire il lavoro di Strampelli all'interno di un laboratorio. Il lavoro di Strampelli si può vedere molto bene guardando in campo quello che lui ha fatto. Ebbene Norberto aveva ricostruito tutta la genealogia dei grani di Strampelli con i grani alti, i grani medi, i grani bassi. Ma non solo. Lui mi ha fatto molto piacere che Roberto abbia sempre parlato di Norberto pensando al futuro. perché guardando i suoi campi sperimentali si vedevano tutti gli incroci che lui aveva fatto e anche quelli che avrebbe voluto fare. E allora tutto il discorso complesso dell'allopoliploidia, quello del recupero delle fonti genetiche di resistenza alle malattie e anche per la qualità dei grani si ritrovavano in quel suo campo che aveva costruito appunto a San Severino Marti. Io vorrei concludere con una richiesta da parte tua e forse anche da parte di Benito Giorgi della questione di cui non si è parlato della rivoluzione verde perché proprio per il fatto che Nazareno Strampelli era stato considerato del periodo fascista gli inglesi non riconoscevano il lavoro di Strampelli. Io nel 1974 frequentavo l'università a Cambridge e il professore di Cambridge che parlava non parlò di Strampelli, non parlò dei grani di Strampelli, parlò dei grani slavi. I grani slavi non erano altro che i grani che erano quelli di Strampelli che erano andati in Jugoslavia. Devo dire che per fortuna all'università, non all'università, ma al Plant Breeding Institute di Cambridge c'è stato anche Tony Worland, che Benito lo può dire, il quale ha scritto un articolo in cui dice che il premio Nobel per la pace non avrebbero dovuto darlo a Norman Borlaug, ma avrebbero dovuto darlo a Strampelli, perché Nazareno a Strampelli aveva ricostruito effettivamente quelle condizioni che poi hanno portato a dare il premio Nobel a Borlaug. Quindi ti chiederei a te e anche Benito, semmai, di parlare un po' di questa seconda rivoluzione vera. Benito, a parentesi, io ho conosciuto Norberto Pugno insieme a Benito Giorgi e a Luigi Rossi che mi vengono a trovare a Rieti e lì progettammo quel convegno, cos'era, 1998-99 e da allora insomma questo filo è ancora in piedi. Dico subito che mi sento un po' in difficoltà oggi a parlare perché appunto abbinare Norberto Pugna con Strampelli insomma sono due cose che a me toccano molto le corde emotive. insomma questo perché appunto ho iniziato a lavorare all'Enea nel 61 quindi sono praticamente più di 50... Si sente? Si sente, sì. E ho iniziato a lavorare proprio sul cappelli e ho lavorato, ho cominciato a lavorare sui cromosomi del cappelli e poi dopo da lì ci siamo passati agli altri grani e anche ad altro tipo di lavoro, lavoro di tipo fisiologico, lavoro di tipo di breathing eccetera eccetera. E quindi questo... E allora a quel tempo io ricordo benissimo che di Strampelli non sapevo niente eppure sono marchigiano di origine e nessuno mi aveva parlato prima di allora di Strampelli. L'unico ricordo che riesco a tirar fuori dalla memoria è quello che ebbi nel 1960 a Pisa mentre ancora facevo l'università che un giorno venne all'Istituto di Economia il rettore il rettore Avanzi, Enrico Avanzi e incominciò a parlare appunto del fomento e quindi parlò anche di Strampelli ma io questo nome appunto non l'avevo captato però a posteriore ricordando l'entusiasmo con cui parlava di questa cosa allora risalì che lui parlava del grano e si di Strampelli e lui fu anche diciamo un sostenitore appassionato fin dai primi anni e continuò a fare il breathing e fece anche molte molte varietà. Quindi questo era il mio background e parlo diciamo degli anni 60 e poi condivido appunto anche io ho avuto l'esperienza di Luigi Rossi al plant breeding e istitute cioè il fatto che appunto non conoscevo i grani di Strampelli e ricordo anche che fu scelta una varietà nel 1967 il Mara che non è di Strampelli direttamente ma deriva da quelli di Strampelli ed era una varietà bassa bassa cioè moderna però né io né gli altri sapevamo appunto l'importanza di questa cosa che risale è appunto a Strampelli. E quello si chiamava appunto EVAC, European With Aneoploide Cooperative inventata dagli inglesi. Pensate appunto alla beffa della storia, questo gruppo di scienziati inglesi che misero in piedi questa piccola unità di collaborazione tra genetisti dell'Europa occidentale ma anche l'Europa orientale c'era appunto la Maestrenko che era russa, c'erano i bulgari, c'erano i polacchi pensate oggi appunto alla beffa della storia che appunto l'EVAC nata nel 1967 e abbiamo avuto poi il Brexit 50 anni dopo appunto in Inghilterra. Questo per dire che forse a volte noi diciamo così scienziati, i ricercatori siamo molto focalizzati sulla ricerca e ci dimentichiamo anche delle cose buone che magari si fanno oltre alla ricerca e questo appunto della EVAC era una cosa buona pro appunto l'Europa, a favore dell'Europa. Quindi e poi diciamo in anni successivi appunto ho avuto l'occasione di conoscere Roberto Pogna a Sant'Angelo Rodigiano e da lì appunto è nato un sodalizio che è durato diciamo più di 40 anni fino appunto proprio agli ultimi mesi quando siamo stati in Cina sempre per il frumento e l'anno scorso continuavamo a collaborare appunto per questo lavoro che dovevamo mettere insieme e tutte queste cose per cui diciamo io sento questa assenza che poi per me non è più assenza in realtà perché adesso mi sto convincendo appunto che il mio prossimo è fatto di persone che diciamo vive ma è fatto anche di persone che non sono più vive ma continuano ad essere il mio prossimo e in qualche modo loro diciamo mi aiutano a vivere e in qualche modo diciamo io ci in qualche modo si cerca anche di far vivere queste persone appunto che carissime sono appunto sono scomparse poi recentemente. E allora il mio saluto appunto la mia commozione per Norberto è diciamo è grande ecco io non posso non non ricordare con diciamo così con grande rammario con grande tristezza appunto questa questa assenza di Norberto. Vorrei aggiungere altre due cose vorrei dire. una che riguarda Carlotta Strampelli nel 2014 a Macerata fu fatto un convegno appunto su Carlotta Strampelli dovevano uscire gli atti non sono ancora usciti però diciamo le bozze dalle bozze ho tratto qualche elemento importante nell'esame di coscienza di Strampelli che ha scritto nel libro del 1932 lui parla c'è un tratto un capitolo un brano che parla appunto della moglie bene però se uno appunto lo legge così la prima volta forse diciamo rimane anche un po' così però siamo ho avuto altre conferme successive che praticamente di un'intervista fatta a Strampelli a un giornalista della Corriere della Sera del 1939 in cui lui dice esplicitamente che nei primi anni quando non aveva assistenti non aveva assistenti per fare il suo lavoro la moglie l'aveva aiutato moltissimo nel fare appunto gli incroci e non solo ma i primi anni sono al 1904, al 1905, al 1906 aveva la figlia nata nel 1901 e il figlio è nato pochi mesi prima nel 1904 e dice lui che Carlotta Strampelli si portava i bambini nel campo per fare gli incroci sotto il sole e non solo sono andato a vedere appunto il numero di incroci che aveva fatto la maggior parte degli incroci fatti diciamo nel 1904, nel 1905, nel 1906 sono in media 70 all'anno dal 1906 fino al 1926 quando è morta la moglie la media era di 8 incroci all'anno e aveva anche altri collaboratori quindi da questi elementi dobbiamo immaginare lo sforzo grandioso non solo fatto da Strampelli ma fatto anche da Carlotta Strampelli la quale ovviamente non facevano qualcosa per far piacere al marito ma evidentemente aveva già introiettato i sogni dei Strampelli perché altrimenti non ci spiega questa cosa e devo dire anche che il primo ad accorgersi di questo è stato proprio Tony Walland dell'inglese che già 20 anni fa mise appunto in rinievo il lavoro di Nazareno e Carlotta Strampelli mentre per noi ancora era considerato una cosa così un aiuto ogni tanto insomma e questo è una cosa che secondo me deve essere appunto deve essere sottolineata e deve essere appunto valorizzata perché è unica è unica l'esperienza di Strampelli ma è unica anche l'esperienza di Carlotta Strampelli di cui sappiamo poco ma soltanto da questi piccoli indissi noi possiamo ricostruire la storia grazie 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 è venito io aggiungo soltanto una cosa per tornare all'inizio a quelle carte che andavo scoprendo ma c'era una fotografia che mi aveva colpito la foto di Carlotta sul letto di morte che è Strampelli Carlotta muore nel 1926 coperta da fiori di mandorlo che Strampelli ha tenuto sempre vicino alla sua scrivania mi sono sempre chiesto all'inizio ma perché? accade, muore qualcuno poi il tempo passa poi ecco seguendo la vita di Strampelli si capisce si comprende insomma quella presenza che torna nel testamento al primo punto c'è Carlotta sono Tassinari di AgroService ISEA io ho avuto la fortuna di lavorare con in modo molto stretto di collaborare con con Norberto per un anno purtroppo è stato troppo poco circa due anni due anni fa sfogliando articoli eccetera mi cade appunto lo conoscevo perché avevamo rapporti di lavoro ugualmente ci si confrontava si partecipava ai convegni e quant'altro conoscevo molto bene Norberto Poli però stavo pensando come azienda come che cosa fare nell'attività di ricerca e di sperimentazione che cosa poter portare all'interno dell'azienda conoscenza supporto aiuto alla nostra attività sfogliando un articolo per Norberto Pogna parlava di un convegno che c'era stato sarebbe la persona che se venisse qui sarebbe per noi una cosa magnifica eccezionale però metto subito da parte l'idea perché è impossibile che Norberto Pogna possa pensare con la sua conoscenza con la sua posizione possa pensare di venire a collaborare con una piccola azienda sementiera qui nelle marche passo un po' di tempo mi ritorna sempre in mente ogni tanto ma perché non ci vado ma no ma lascia stare è inutile dargli a proporre una collaborazione di questo tipo Norberto passa ancora un po' di mesi e dico vai faccio il tentativo visto che altra idea non ho vado da chiedo un appuntamento per potergli parlare e arrivo nel suo studio qui a Roma un po' titubante anche per perché pensavo che la proposta e l'idea che avevo non fosse non fosse neanche presa in considerazione da lui dopo un po' lui capisce un po' la mia titubanza e gli dico Pogna io avrei una proposta però non so parla liberamente qual è il problema allora gli dico seta molto apertamente noi avremmo bisogno che tu ci venissi ad aiutare perché abbiamo necessità di tutto un progetto di sviluppo della nostra attività di ricerca mi guardo un po' e hai messo così tanto tempo a dire quello che volevi quello che vuoi sì perché ero un po' titubante sai com'è la distanza tu hai tutti i tuoi impegni il tuo livello la tua attività eccetera eccetera venire da noi una piccola aziendina così mi feo e gli dice guarda se hai bisogno qual è il problema sono qua io sono qui pronto se tu hai bisogno ad aiutarti ad aiutare l'azienda per la quale tu lavori io rimasi esterefatto la settimana dopo ci venne a trovare e gli dice ok Eugenio pronto noi siamo qui io sono qui disponibile a fare tutto quello che posso fare per poter aiutare non so se effettivamente lui mi dice posso essere poi la persona che mi può aiutare io gli dico Roberto senti sicuramente tu ci puoi portare tanto e in questo anno ci ha portato tantissimo l'esperienza che io ho avuto con la quale noi come gruppo di ricercatori che abbiamo in itano dell'azienda ha portato tantissime idee tantissime innovazioni e stiamo ancora lavorando proprio su quelle su quelle idee su quei lavori che lui ci ha ci ha portato noi come come azienda dobbiamo tanto a Norberto ma io in questo anno di lavoro di attività con lui ho imparato tantissime cose e anche l'aspetto umano il rapporto che lui mi mi poneva mi mi seguiva eccetera è stata una cosa per me è una cosa veramente veramente fantastica io devo tanto a Norberto grazie grazie io credo che abbiamo esaurito il tempo a disposizione che c'è stato all'organizzazione se non ci sono altri interventi credo che possiamo chiudere qui un altro Anna Maria io vorrei ringraziare il consenso che non l'ho fatto prima e volevo ringraziarti anche a nome di Eva e di Edgar che purtroppo non mi ha perché devo dedicare scusate volevo ringraziarti anche a nome dei figli Eva e qui Edgar purtroppo non ha potuto intervenire perché all'estero perché hai voluto dedicare il libro e la giornata a Norberto ma soprattutto perché gli hai dato la possibilità di coltivare una sua grande passione con te perché ha sempre pensato che il futuro si costruisce ricordando il passato e ricordando figure con strappelli quindi era molto molto felice ogni volta che vi sentivate che gli lanciavi delle idee su come valorizzare questa storia so che perlustrava il suo istituto alla ricerca di documenti che ha trovato come tu hai trovato in condizioni terrificanti direi negli anfratti dell'istituto che adesso è totalmente e vergognosamente abbandonato nel centro di Roma purtroppo quindi grazie grazie ancora per quello che gli hai dato quando eravate insieme e per averlo venuto a ricordare grazie è stato bellissimo conoscere l'onorberto averci lavorato insieme sinceramente e ci manca credo a tutti davvero io ringrazio tutti c'era qualche altro intervento mi sembrava no? ah sì aspetta aspetta Monica che arriva ecco grazie allora sono Monica Ruzza in realtà sono qui sarei dovuta essere qui insieme a Marzo e Diego Leoncini che per motivi diversi di lavoro non sono potuti intervenire e io mi occupo del marketing della comunicazione di questo pastificio Strampelli da qualche mese devo dire che l'inizio di questa attività con la famiglia Leoncini ha avuto una rete anche di attenzione molto particolare sapevo di questo percorso anche di ricerca che era stato fatto ma l'essere qui questa sera veramente ha impreziosito moltissimo non solo la mia conoscenza ma devo dire anche lo spirito che porta avanti quest'idea del pastificio Strampelli e volevo legarmi anche all'intervento del signore che diceva c'è qualcosa che si muove si muove sì perché comunque sia anche per noi mettere questa attività che doveva poi in realtà partire nella piana ariatina poi in concomitanza con il sisma di Amatrice c'è stato chiesto dal sindaco di poter aprire il pastificio che adesso grazie al cielo la burocrazia ha dato l'ultimo benestare per la costruzione e quindi verrà costruito proprio ad Amatrice ma verrà lavorato ovviamente con i grani strampelli per cui questa ricerca continua a vivere anche nella produzione come noi tanti altri pastifici come lei giustamente faceva presente prima ed è emozionante raccogliere la vita che c'è dietro a questo progetto la vita che c'è dietro a questi grani la presenza anche che possiamo portare ognuno di noi per compartare di tutto rispetto questa sera quindi grazie perché io sono venuta a conoscenza di notizie meravigliose che ovviamente possono solamente ampliare la ricchezza di questa ricerca grazie a lei professore per aver creato questa occasione preziosissima per tutti e credo che possiamo uscire da qui sicuramente con un senso proprio di grande vitalità e di continuo proprio di portare avanti questa ricerca con grande emozione e con grande ricchezza non solo scientifica ma veramente d'animo visto insomma tutto quello che ci ha raccontato grazie a lei e grazie a tutti grazie grazie io mi sono reso conto di non aver detto nulla ho fatto lo strambelliano adesso perché non ho detto nulla sul mio libro che doveva essere presentato in realtà c'è poco c'è poco da dire è una raccolta è una raccolta di scritti di strambelli un altro modo per rendergli omaggio dopo aver scritto la storia strambelli pensate era talmente disinteressato così a dire ah io ho fatto questo ho pubblicato questo che quando fa l'elenco delle sue pubblicazioni nel 32 ce ne mette ne fa un elenco e ne fa una trentina in realtà io poi ne ho trovato un 120 insomma si è perfino dimenticato di scrivere le cose che aveva pubblicato insomma qui sono rimaste solamente tre copie del libro ne avevamo portate alcune se ci sono persone che alza una mano perché vuole un libro o perché se lo venga a prendere altrimenti ecco chi ne è rimasto senza basta che ce lo chieda all'archivio di Statue Rieti trova l'indirizzo su internet e allora glielo mandiamo io vi ringrazio e buonasera a tutti grazie a tutti grazie a tutti